Il giorno dopo, Luca sta male L'intervista tu dai Dicci che coi Un po' da grandissima serata Un po' pesante Un po' pesante Cosa chi ci manca? Minaccio, Pugna Pugna, ma Pugna era il re di entrata Pugna che è di entrata in due Vabbè, è arrivato a regia Pugna